Dopo aver vinto praticamente tutto con il Potenza in Serie C, dopo aver portato la squadra Lucana nel campionato cadetto, cosa che non era mai riuscita al Franza giocatore che sbaglia il rigore proprio nei playoff, decidiamo di abbandonare, anche perché il nostro ricordo così è veramente pieno, ricco. E ci sono tante piazze lì per lì pronte ad accogliere Franza, pensiamo, ci illudiamo, perché poi facciamo la domanda proprio al Verona, di cui abbiamo già parlato nello scorso episodio, piazza importantissima, città bellissima, però il Verona ci scamma, e così tutte le altre squadre disponibili in quel momento, e anche nelle settimane successive. A che pensiamo? Dovevamo rimanere un altro anno a Potenza. Poi arriva la chiamata, inaspettata, dal campionato brasiliano di massima serie, sarebbe un salto di qualità incredibile, ci diciamo, ma sì, facciamo il colloquio, credo non ci chiameranno sicuramente mai, e invece lo Juventude, squadra che sta lottando per non retrocedere, effettivamente porta avanti il colloquio e ci chiede di prendere possesso della panchina. Da lì a poco però arriva anche la chiamata del Corinthians, e quindi diciamo, aspetta, mettiamo in stand-by sto Juventude, perché il Corinthians è uno dei club più famosi del Brasile, è uno dei team più importanti dello Stato di San Paolo, che calcisticamente è uno dei più blasonati. Il Corinthians viene fatto nel 1910 ad opera di alcuni operai che creano una squadra per le leghe inferiori in Brasile, e si ispirano però come nome a un altro club inglese, che si chiama Corinthians Football Club, che dal 39 in poi si chiamerà Corinthians Casual Football Club, perché si andrà a fondere con i Casual Football Club. Ora, questo club non tutti se lo ricordano, ma nei fini degli anni Ottocento e primi del Novecento andava in turno in giro per il mondo, ed era uno dei club più potenti. Pensate che ancora oggi la sconfitta più grossa operata in amichevole dallo United è proprio contro il Corinthians Football Club, 11-3. La parola amichevoli in quegli anni è sbagliata, si parla di partite di esibizione, non sono le amichevoli che si fanno ai giorni nostri, semplicemente per fare scena e raggiungere soldi da altri paesi dove il calcio magari è meno interessante, no. Quella squadra andava in giro per il mondo e portava valori, era un club che non si voleva affiliare a delle leghe, perché non voleva che ci fosse il premio come obiettivo, ma semplicemente lo sport. Pensate che al primo rigore che loro subiscono in una tournée in Sudafrica, il portiere decide di non parare, si accosta al palo e accetta il gol, perché voleva in qualche modo ripagare la slealtà che aveva causato il rigore. Il progetto amatoriale del Corinthians Football Club non durerà tanti anni, già su fine degli anni 20 parteciperanno alla FA Cup, cosa che si erano sempre rifiuti di fare negli anni d'oro, quando non avevano paura di affrontare nessuno. Ha nascito però tantissimo al calcio internazionale dell'epoca, pensate che la stessa camiseta blanca del Real Madrid è ispirata proprio al Corinthians Football Club, che oggi sta in settima serie del livello inglese di calcio. Mentre il Corinthians inglese resta un club ad oggi direttantistico, lo sport club Corinthians Paulista, ovvero il Corinthians brasiliano, è invece un club blasonato in Brasile, avvito più di 30 campionati statali, 7 campionati nazionali, 2 mondiali per club e una Libertadores, questo tra le tante competizioni vinte. I bilanci del Corinthians sono altissimi, ci sono alcuni club in questo momento che hanno 20 milioni anche in casa, però questo milione e 3 ci permette di chiedere al presidente un patentino nuovo da studiare e ci farà studiare la continentale. Rispetto al Patentino sembrerebbe un salto di qualità incredibile, 24 milioni e mezzo il monte stipendi, anche se poi scopriremo che alcuni giocatori in realtà sono un po' scarsi. E non è l'unico problema perché il Corinthians al momento ha ben 7 giocatori infortunati, siamo appena arrivati e mancano già i migliori giocatori. Come tattica decidiamo di utilizzare il 3-4-3 di Gasperini perché uno non l'abbiamo mai utilizzato in live, quindi è giusto provare questo modulo che abbiamo già pubblicato su YouTube, ma anche perché la squadra teoricamente si confà a questa struttura. Se non fosse che però, a me inizialmente ci mancheranno una valanga di giocatori, tra chi è stanco, tra chi è infortunato, tra chi è squalificato, veramente abbiamo perso metà rosa. Caccisticamente parlando, il campionato brasiliano segue l'anno solare, si inizia a gennaio e si finisce a dicembre, però il campionato in realtà non è proprio la parola giusta. Bisognerebbe parlare di campionati al plurale perché si inizia prima con quello statale, che per quanto riguarda la nostra posizione geografica è il campionato paulista, dove si parte con una classifica diciamo che sembrerebbe all'italiana, poi però si trasforma e diventano 4 i gruppi. A questo punto le prime due di ogni gruppo si andranno a sfidare tra di loro e quindi ci saranno i quarti, poi ci saranno la semifinale e poi ci sarà la finale che il Corinthians ha perso contro il Santos ai rigori. E poi parte il campionato nazionale dove al momento siamo ottavi, qui la struttura è classica, se arrivi primo hai vinto. Per quanto riguarda il resto delle competizioni era anche impegnata in Libertadores e in Coppa Nazionale, per quanto riguarda la Libertadores perdono contro il club colombiano dei milionarios, mentre per quanto riguarda la Coppa Nazionale perdono niente po' di meno che contro il Kuaia Ba, una squadra veramente scarsa che lotta per non retrocedere. Arrivando negli ultimi giorni quindi di settembre ormai il campionato volge a termine quello nazionale e mancano soltanto 10 gare, quindi il mercato è anche bloccato, non si possono fare acquisti neanche a parametro zero perché arriveranno poi per la stagione successiva. E a tal proposito riusciamo a mettere sotto contratto niente po' di meno che Arthur, quello ex della Juventus, ma non ce lo possiamo godere in questa season. Fausto Vera è uno dei migliori giocatori presenti al Corinthians in questo save e sono acquistato dall'Argentinos Junior. E' un giocatore che a centrocampo può dare veramente le geometrie a un club come il Corinthians, ma non solo perché potrebbe giocare anche nei migliori club europei. Secondo giocatore interessante nel Corinthians, Roger Guedes, che potrebbe giocare tanto attaccato esterno tanto centro avanti. Il problema è che purtroppo partirà con un infortunio che lo terrà fuori alcune settimane. Altro elemento interessante in attacco, anche Romero ormai a fine carriera 33 anni, paraguaggio, lui quindi è straniero, massimo se ne possono avere 5 quando si schiera la formazione titolare. Passando invece alle vecchie conoscenze del campionato europeo, non si può non menzionare Paulinho, che a livello tecnico e mentale è fortissimo, certo non si muove più, ma alcuni avranno già capito di chi si tratta. Quello che il Barcellona pagò nella stagione 17-18, 40 milioni. Vittor Jugo l'abbia avuto persino in Italia, un paio di stagioni alla Fiorentina, ormai però c'ha 34 anni, quindi anche lui ormai fa fatica a moversi benissimo, anche se il 9-9 ancora ci potrebbe stare, difese non troppo alte. Tecnicamente e mentalmente sicuramente ancora utile, ma ci abbandonerà a gennaio dove andrà praticamente alla Fluminense. È stato dal 18 al 19 appunto in Italia. Il Corinthians in real life punta tantissimo sul settore giovanile, purtroppo Liage, estendo questo club, non l'ha affatto allo stesso modo, quindi molti giocatori ancora hanno un talento inespresso come Breno Bidon. Per non parlare di Matteo Sudonelli, che è uno dei porteri brasiliani più promettenti inizialmente, ma qua a 23 anni sta nelle riserve. Il Corinthians, ragazzi, è ottavo e la dirigenza ci ha chiesto di arrivare quarti. Allora io vi dico, mancano 10 giornate, potrebbe essere stata una furbata arrivare qui, non solo ci fanno il patentino. Ma attenzione, guardate cos'è accaduto alla reputazione di Franza. Ricordiamo che il cambiato brasiliano ha la reputazione di sesto campionato migliore al mondo e noi abbiamo fatto un salto di qualità sul campionato che ci ha di riflesso pagato di più. Io temevo che perdessimo reputazione perché cambiamo continente, ma non abbiamo fatto i conti con la reputazione del campionato, che di converso invece ci ha aumentato la nostra reputazione. Siamo venuti qui per vendere bollicine o siamo venuti qui per giocarci il campionato? Bando le cianci, assa, l'istruzione avversario. Allora, questa è una squadra che, come si diceva, sta andando maluccio in classifica. Matteo Zinio non dovrebbe essere un brutto giocatore, se non ricordo male. Però, diciamo che è abile in un solo piede. Mentre... Ma è il terzino più forte del mondo! Gioca in una squadra scarsissima, scusate! Ma è scandaloso! La sua dimensione, profetoro, ma quanta cattiviera, ragazzi! Per il più grande terzino della storia del Brasile! Secondo me ci può stare. Oddio, non ho fatto gli angoli! Gol di Nathan Silva! Un giugador più forte Brasilu! Romero? Questo non è il Romero di Lucca, eh! Questo è il vero Romero! Un rassuntino, Arturo! Arturo, allora qui, dopo, diciamo, l'esperienza a Podenza, dove abbiamo vinto, diciamo, e siamo saliti in Serie B, ci siamo spostati in Brasile. Se ci fate caso, in questo momento sto puntando molto sulla carriera itinerante. Sto ritornando, finalmente, alle views di prima, perché, diciamo che, mi sono fermato per un mese e mezzo, e chiaramente, diciamo, avevo rovinato le medie. Ora sto rientrato pian piano, e poi arriveranno tutti i progetti che avevamo già messo in stand-by. Catato è l'unico che viene aggiornato costantemente, anche mensilmente. Gustavo Silva la mette al centro! Tecnicamente, eppure questo qua, potrebbe crescere, eh! C'ha 22 anni! Artur Sosa, brasiliano! Però è una pippa, cioè... Ma voi rendete conto che è più forte Curatelo? Io se vado a confrontare questo con Curatelo, Curatelo è più forte. Sicuro? Cioè, questo è l'assurdo. Come fa a essere una squadra di... Un campionato top, come quello brasiliano, questa, che sta messa malissimo con le statistiche dei giocatori. Le qualità sono veramente pessime. Gustavo Silva! Spacca la porta! 4-1, col quiabà! Di Alexandro! Il fenomeno! È chiuso il mercato, le Viola! Al momento è chiuso il mercato, siamo arrivati a mercato chiuso. Raniella, pala per Marsigno. Marsigno al centro! Mamma, però, come si buca facile la difesa del Corinthians. Mamma mia! Che difesa imbarazzante! Io c'ho paura che appena sta squadra sarà costretta a mettere riserve, piglieremo tante di quelle batoste. Col Fluminense e con l'Internazional. Mamma, quante ne prenderemo! Anche Romero, cioè, una punta ci stava. Una! Una punta ci stava, giustamente. Si è rotto in partita. Diamo un po' l'avversario, come si mette in campo. 4-2-3-1 per il nostro avversario. In camisetta stile Juventus, stile Newcastle. Le ultime partite sono una vittoria. E due sconfitte e due pareggi. Rafael Ramos. Se perdiamo questa, ripeto, vuol dire che siamo messi veramente male. Però, io non posso trovare giocatori così forti. Ma non è possibile che questi lottano per non retrocedere? Tira in porta! Ma ragazzi, ma segna pure Gagliardini a porta vuota, ragazzi. Ma stiamo veramente scherzando. Ma a porta vuota! Oh, guarda! Guarda come corre! Guarda come corre Mana! Mana! La mette al centro! Questavo Silva! Vabbè, Adzon è una pippa colossale, però ragazzi. Ti ha messo un bijou davanti la porta e l'hai completamente buttato fuori. Un babà ti ha messo davanti la porta e non la fichi, Adzon. Ma io ieri stavo con... Ma che fa' sto pazzo? Ma c'è il diff vicino! Che ci fa? Ma c'è il diff... Lancio lungo per Adzon! Grande aggancio! Mettila al centro, Adzon! Non fa tutto da solo! Ma perché c'ho tutta... C'ho gente che non capisce nulla di calcio in questa... C'è, non è che devi essere Van Bastel qua contro l'Unione Sovietica per far sto gol, eh? C'è, boh, mettila al centro! C'è lo sweaty goal, la tirala in diagonale... Dove l'ha tirata? C'è, tra un po' più va rimessa laterale, boh! Fa' che schemi per FM22 sono quelli che trovi su YouTube, ma... O scaricando qualsiasi tattica che ho fatto per FM22, fa' che... E te li salvi! Perché ogni tattica che poi mi metto su YouTube ha sempre anche i calci piazzati! I giocatori che avevamo a potenza erano più forti! Qua siamo nella Serie A del Brasile, che è paragonabile, diciamo, alla Ligana francese più forte! Questo ti sembra di un giocatore che gioca per lo Sporting, il Porto o il Benfica! Siamo davanti al campionato portoghese come reputazione! Questo ti sembra un giocatore che potrebbe giocare a titolari nel Benfica! Gabriela Serda, attaccato! La gira a Miranda, che pende palla! La recupera Gustavo Silva, non tirare da lontanissimo! Tipo, una sola cosa ti chiedo! Non tirare da casa tua! Leomanà per Artur Sosa! Ma dove stiamo? Scusate! Cos'è questa? Che roba è sta cosa? Ma manca in Serie C l'ho vista queste cose, eh! Manca in Serie C l'ho vista queste cose! Sti portieri sono tutti pazzi! Sono tutti inoginosegni! Guarda là! Che caspita ha fatto! Ma poi va così! Non è che dice esce con le mani! Dice esce prima! Anti... Così andava a zonzo! È imbarazzante! Pagliamanti per giovane! Sull'out di sinistra! La sterzata! Il tacco non lo fa nessuno! Io non cambio da gemma! Aspettavo un sacco di tacchi! Voglio Artur Sosa! Artur! Kaiser Sosa! Bravi tutti! GG! Siamo a 4 punti dal Flamengo! Praticamente! Che è il primo in classifica! Ma sono tutte vicine! È una cosa stranissima! 53, 51, 50, 49, 49, 48, 48, 47... Qua basta che perdine la partita! Cambia completamente la classifica! Siamo stretti stretti a quello che ci hanno chiesto! E ripeto! Abbiamo semplicemente fatto due gare sulla carta semplici! Vedi? È ancora tutto da vedere! C'è da tremare ancora! C'è da tremare! Soprattutto se questi continuano a farsi male in continuazione! Meno male che tornano quelli dalla Nazionale! La prima in classifica ha vinto anche la partita successiva! Sta già più 7! No ma io penso che il Flamengo... Quando era perso il Flamengo? 2! In tutta la season! Noi 8! Quindi penso che sia impossibile! Onestamente! Perlomeno abbiamo recuperato la condizione! Poi! Purtroppo! Quello che accadrà! Non lo so! E ricca! Terzio destro! Guarda là ragazzi! Ma come si fa! Ma non ci sta un giocatore scasso che affrontiamo! Ma roba da mati! Ma sono tutti fenomeni qua! C'hanno pure il cantante! Santana! Sì vabbè! 18 in calci piazzati! Ma sto baffetto vedo che va parecchio in Brasile però eh! Wagner Leonardo! Ma si può chiamare uno Wagner Leonardo? Io quando penso a Wagner penso a Wagner Lova! Un grandissimo bomber del passato! Senti ma tu sei portiere libero in difesa! No? T'ho messo anche i cori meno rischi! Ma che ci fai ogni volta all'avanti? Che la difesa non è alta! Perché mi si alza così? Guardalo Wesley! Mamma mia! Allora qui si è allungata! Pensavo che la perdesse! Poi penso che l'ha toccata un po' il difensore! Poi io un po' se la toccata il difensore! Insomma la tocca il difensore e mette in difficoltà il portiere! Sì! C'è qualche magro che fa chiaramente qualche imbroglio! Non ci sta andata a spiegare! Si scassano tutti ogni partita uno! Ma come sono fatti sti campi in Brasile? Undici in fie d'azione o in freddezza! Aiuto! Ma come devo far? Come devo far? Come devo far? Mentre Omalleo Dieci Uno e ottantase Ma questo almeno sa utilizzare l'ambidestria Ma proviamo Omalleo E' imbarazzante! Adesso sono veramente nella cacca più totale! Non so come andare avanti nelle prossime partite! Ciò ho perso il bomber titolare! Il bomber di riserva! E mi tocca metti in campo uno che c'ha tipo 8 in finalizzazione! Secondo me tra il presidente Omalleo c'è un accordo per rompere tutti i giocatori! Dici? Ti ringrazio tantissimo! Un bacio enorme! Osazza! Sub 192! Ti ringrazio tantissimo! Romulo Cardoso! Perde palla sull'attacco di giovane! Che va su Wagner Leonardo! Guarda Wagner! Guarda lì come sta fuori adesso portiere! Ma perché stai così fuori? Ti taglio le gambe! Mantiene un vantaggio veramente fortunato! Il Corinthians! Se non fosse stato per quell'autogol con il tiro di Wesley! Sì ma ha fatto gol! Uno con otto in freddezza! Cioè l'ha messo davanti la porta! Stava dentro era piccola! Praticamente doveva solo appoggiarla! Ma è allucinante! È allucinante! Mamma mia! Questo è tutto merito del gaspa! Se no... Va da là! Però per ora 3 su 3 forse! Forse per ora 3 su 3! No vabbè no... No vera... Doppietta! No si è rotto pure Wesley! Vabbè imbarazzo! Ma basta! 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 Si è rotto pure Wesley! Ma quello 1 c'era che facevi cross! Ma stiamo scherzando? Dai c'è una macumba sul Corinthians! Non ci sta un'altra spiegazione! Non è possibile! Se io non ho mai visto nulla del genere in ogni mia carriera! Mai! Mai! Sembra che ci sta qualcosa proprio di... Di mistico! Contro... Mamma che botta di fortuna! È stato lo Sporra! Che sarebbe... Penso sarebbe forse brasiliana! Devo pensare! È all'inizio della sua vita ancora! Oh ma Leo si impallao! Novantatresimo! Il Corinthians a sta sorpresa! Ha vinto pure contro l'Atletico Paranaense fuori casa! Bernamè si via e la Juventus non vince! Bravo Skytras! Ricordiamo che sono i veri campioni! Tutti a elogiare Kvarasvelia! Ma il vero gotta! In Serie A ce l'avevamo! L'abbiamo mandato in Canada! Coso Alberto! Ti ringrazio tantissimo nel Prime! Un bacione! Fluminense contro il Palmeiras! Questa è una sfida che potrebbe perdere Fluminense! Mentre prego di guarda l'Internazional contro l'America! Quindi sicuramente l'Internazional batte l'America! Sicuramente il Flamengo vince! Ragazzi! Ma! Ma! Mi spiegate sta roba qua! Cioè! Io non capisco! Ma che ci fa! Ma poi! Io non lo capisco Cassio! Guarda là! Ma poi si ferma lì! Sta dall'altro lato quello! Cioè! Se esci fuori fallo bene! Fino in fondo! Gli dai una bella! Eh! Lo salti! Lo tosi! Eh! Però! Almeno lo fa! Che sta a fa là? Che sta a fa là? Io queste cose le ho viste solo in Brasile! Ma da nessun'altra parte! Con sto portiere qua! Direi che è praticamente impossibile! Anche se va Grinionardo! La gira Omar Simpallao! Prego! Per Guedesha! Che è la prima partita che fa tra l'altro! Perché lui è stato rotto tutto l'anno! La prossima penso che torna anche Romero tra l'altro! Dovrebbe tornare anche la punta centrale! Omar Simpallao vi ricordo che c'ha ottima finalizzazione! Guedesha! Togli il portiere libro! Ma è in difesa! Papa Sputopus! È lo stesso portiere che abbiamo sempre utilizzato in ogni avventura! Si sta attaccando troppo! Spotless! Ma che ti pensi che ci sta il Livornese qua eh? Il Livornese te le mette tre punte davanti! Lo trovi in coma per un mese intero con tre punte vere! Stai scherzando! Gli prendo un colpo poverino! No! No! Io lo sapevo che finisla così! Pum 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 pum! Mamma mia che botta di fortuna! Mamma mia! Fammi vedere un po' se stava fuori gioco o no! Che tanto male se fuori giochi e non sa neanche dove stanno di casa! Oh ma le ho si impallao! Ma io spero che torni un'altra volta a casetta! Purtroppo lo utilizzeremo parecchio! Sapete perché? Sapete perché? Perché? Visto che siamo in Brasile che si... Perché? Perché? Tradotto? Perché? Purtroppo si è fatto male Adzon! Purtroppo si è fatto male Adzon e quindi dovremmo utilizzarlo parecchio! Mi sembra due mesi Adzon se non vado errato! Controlliamo! Adzon due mesi! Sì! Sì! Quindi il peggio giocherà! Purtroppo tutto il campionato! Mamma mia che cattiveria! Siamo soddisfatti! Oh senti! Ma questi... Meno male che mi hanno dato subito il patentino eh! Oh mi danno l'analista e non mi danno il preparatore! Ma sono... Sono frufru questi qua però! Scusate! Che me ne faccio in cinque analisti di performance con solo nove preparatori! Non... Non l'ho capita questa qua onestamente! Con la corsa al titolo che avvolge a termine! Chi ritiene possa essere il vincitore? Beh non io sicuramente! Sì! Sì! Sa! Non voglio dare la soddisfazione di mettere il Flamengo! Questa è una carriera itinerante! Quindi voglio mantenere il 100% della gestione di media! Come funziona? Partecipa alla conferenza? Un punto percentuale circa! Può dipendere anche dal tipo di conferenza! Non la fai e perdi un punto! Quello è il discorso! Io lo faccio soprattutto per la gestione di media! Comunque sì! Ti può portare anche dei bonus! Se chiaramente tu vai a parlare del tuo giocatore e lo tratti bene, ne parli bene, il morale si alza! Quindi in quei casi sì! Quindi fate attenzione se magari parlano di qualcosa che magari riguarda la vostra squadra perché potresti diciamo ottenere un morale più alto! Che squadra tifo! Future Mind! Allora io non tifo nessuna squadra! Simpatizzo Viola! Pure questo è fortissimo! Questo va apprestato perché è bravissimo nel Pallegiar! Caglio Polista! Eppure ambidestro! Vabbè, comunque scendiamo in campo così! Se perdiamo con la Fulminense finisce il sogno scudetto! Punition di Mateusz Bidu! Traversa! Il Flamengo le vince tutte! È allucinante! Le vince veramente tutte! Non c'è speranza! Era appena tornato! Dicevo ma sai che c'è? Io quasi quasi in un altro viaggetto mi spiaggia me lo farei lo culo sa! Mosquera! Sbaglia completamente il passaggio! Questo c'ha pure il Cori meno rischi! E ha pure sbagliato! Incredibile! Veramente non sa come si vanno a fare i passaggi! Sarebbe stato allucinante se segnava adesso o ma Leo si impallava eh! Manca 20 minuti! Un rigore inesistente! Comunque io me lo prenderei a gratis! Onestamente eh! Non mi dispiacerebbe! Ancora Guga! Sull'auto di destra! Guggetto! Mamma mia! Mamma mia Guggetto! Teniamoci stretto sto pareggio a sto punto! Volevamo se bene! Allora Eitor! Terzino destro! Mazza quanto è forte eh! 25 anni! Sorriso smagliante! Alla meta diventa! Poi abbiamo Fabrizio Busto! Oddio! Questo è fortissimo! Ma non stava in Argentina! Infatti è Argentina questo qua! Però io parevo che fosse a River! Può essere! Abbiamo un po'! Bustos! 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 No all'indipendente! Però stava in Argentina! Non ricordo perché mi pare che lo utilizzavamo l'anno scorso! Guglielme! Anche questo non è male! Anche questo ambidestro! Sono tutti da palato fine sti giocatori eh! In attacco però sto David non mi dice nulla di che! Onestamente! Prima volta che vedo una punta scarsa! Alemao! Come all'Alemao c'è lo campista del Napoli che vince lo scudetto! No questo però lo blocchiamo! Ma per sicurezza non si sa mai! E' quello della monetina di Bergamo! E' quello di Napoli giusto? E' lui che mi pare che poi... Diciamo... Attenzione! Gol di Guedes! E attiva il mister sono io durante questa carriera... Nine! Nine! Per adesso Nine! Potrebbe attivarsi in certe avventure... In certe squadre di questa carriera sì! Ma in questo momento in Brasile no! Futuro! Il futuro! Solamente su FM! Capito? Nathan Silva! 3 a 0 in 20 minuti! In 20 minuti! Guarda là! Tocca al pulmino del Flamengo! Rovinargli la ruotina! E non far rientrare allo stadio ogni volta così perdono 3 a 0 a tavolino! Se no lo scudetto non si vince! Possiamo fare quello che vogliamo! Ma arriveremo al massimo secondi purtroppo eh! Ho una domanda! Ma per caso in questa carriera deciderà mai di acquistare Nugent promettenti che ha visto in altre nazioni? Assolutamente! Perché no! Al momento preferisco utilizzare più gente reale! Poi se però me lo trovo in squadra ed è un buon giocatore chiaramente lo utilizzo! Però di default al momento non sono già intenzionato a utilizzarli! Se mi ritrovo sì! Se no preferisco utilizzare più gente che magari reale! Così conosciamo anche i volti magari del passato! Roger Guedes a 4 a 0! Mamma mia che Corinthians! Gli stiamo facendo il pelo all'Internazionale! 2 a 0! Figurati se la Juventude bloccava il Flamengo! Sono a più 9! Ah beh che abbiamo una partita in meno! Ma come facciamo? È impossibile qua! Mannaggia loro! Sono troppo forti! Si impallao! Pazza! Comunque oggi veramente non ci ha capito nulla l'Internazionale! Vera! Perché non tira? Preferisce passare la B2? Detona di rigore! Palla per Wesley! E' appena entrato! 6 a 0! Non ha nulla! Cioè ma vi rendete conto che l'Internazionale è la terza in classifica? Vi rendete conto che la terza è in classifica all'Internazionale? E lo scuolto è impossibile perché il Flamengo non ne perde una! Cioè non dipende da noi purtroppo! Se avessimo tutti gli stessi punti in fase di partenza chissà! Però purtroppo il Flamengo non ne perde una! O avrà qualche sconto diretto! Ma ne dubito! Vabbè il portiere che parla col petto invece che con le mani! Gui! Ma perché loro sono brasiliani! Capito? Vedono lo sport in maniera differente! 60-69! No ma è impossibile! Ma sto Flamengo è troppo forte! Gioerano col Botafogo! Sono anche in finale di Bertadores! Vabbè! Abbiamo recuperato anche Artur Sosa! Nonostante tutto! Cruzeiro Coritias! Questi qua dobbiamo veramente spellarli vivi! Wesley pure qua! Ma quanti Wesley ci sono in Brasile? Mateus Vitalla! Vabbè queste cose sono più normali effettivamente rispetto alle altre squadre! Forse c'erano realmente una chance! Edu! 32 anni! Questo lo marchiamo stretto mi sembra abbastanza intrigante! Leo Manà! Si libera! Cross a centro! O Malleo vicino! Vicino per l'appunto perché è scarso! Quindi non può fare golla! È ovvio! Figuro se è O Malleo simpatico! Quello come caspita fatta fa quella doppietta e ancora me lo chiedo! Veramente! Abrego per Moschera il colombiano in avanti per Guedescia! Autogol forse eh! Sai che non ho capito se la tocca... Sì! Sì! Grande Renaldo! Un fratello totale! Comunque guarda i portieri sono assurdi! Io ve l'ho detto! I portieri in Brasile non hanno senso! Sono tutti così! Sta perdendo! Cioè manca il tempo di dire sta perdendo che ha pareggiato il Flamengo! Ma guarda lì! Ma è allucinante! E' possibile che neanche la sfortuna riesce a fregarle a quelli là! Nel frattempo segna pure Wesley! Tanto per rovinarci la vita! Cioè abbiamo battuto l'International 7 a 0! Pareggiamo col Q0! Dei Vattela Pesca Brothers Fan Club! Ma stiamo scherzando! Ma guarda lì! Cioè ma davanti al portiere non sa fare un team in porta decente sto tizio! Sono 8 punti di svantaggio! Potevano essere solo 5 con una partita in meno e si poteva sognare! Cioè le volte magari noi non ci pensiamo! Ma noi entrando a cambiato in corso dovremmo avere un sacco di malus! Perché entriamo a cambiato in corso abbiamo lo spogliatoio contro! Abbiamo una scuola magari che non sta andando bene se no non chiamano chiaramente Franza! Eppure non ne abbiamo persa una! Noi siamo arrivati con la sfida al cui va! Se noi togliamo le amichevoli noi siamo arrivati qua! E abbiamo fatto la bellezza di 7 partite! Abbiamo fatto 5 vittorie e 2 pareggi! E abbiamo anche distrutto, umiliato l'International con un 7 a 0! Però ahimè questo non basta! Il Flamengo vince la Libertadores! Ma perde le ultime 3 partite di campionato! Secondo voi ne abbiamo approfittato? Prima di queste 3 giornate di campionato sembrava tutto già fatto per il Flamengo! E noi andiamo a sbagliare proprio quello che non dovevamo sbagliare! Bahia e Goiash! Sono squadre che sono finite nelle ultime posizioni! Addirittura il Bahia ultimo in classifica! Sì magra consolazione aver battuto il Santos! Alla fine ciò che conta è che siamo arrivati semplicemente terzi! A tre punti dal Flamengo se avessimo battuto Goiash e Bahia! Avremmo addirittura vinto il campionato! Ora 10 partite! Mai una sconfitta! Ma troppi pareggi! Allora se guardiamo la stagione da dove è partita per noi qui al Corinthians! C'è solamente da essere contenti perché tu arrivi al campionato in corso! C'è le dinamiche contro! Lo spogliatore che chiaramente ancora non si fida di te! E riesci subito con tante amichevoli a lavorare tantissimo sulla familiarità tattica! Porti avanti un progetto però 20.000 infortunati! Che non dipendevano da noi perché erano già presi di prima che arrivassimo noi! Poi se ne vanno a rompere tanti altri durante le ultime partite! Sembra quasi che siamo ritornati alla stagione 1! C'è quella sensazione di essere di fronte diciamo a una sfortuna inenarrabile! Perché era impensabile lottare per il campionato! Però alla fine eri lì! Alla fine eri lì! E anche se non sembrava che tu si dipendessi da te! Le hai sbagliato tu quelle partite! E quindi chiaramente ora dobbiamo riprenderci! Dobbiamo fare mercato! Puntare magari a vincere il campionato! I campionati! E magari giocarci anche la Libertadores! Ma con una testa che sicuramente ancora pensa lì! Lì a quei tre punti mancati! A quel sogno di gloria che ci avrebbe portato nell'Olimpo del campionato brasiliano!